Quella dell'installazione di un supermercato nella zona adiacente il fossato del Castello è un'operazione che porta con sé moltissimi dubbi e siamo certi che la magistratura potrà scioglierli. Hanno dato seguito all'annuncio arrivato qualche giorno fa i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Barletta che nella giornata di martedì hanno presentato un esposto alla procura della Repubblica di Trani per provare a fugare le perplessità emerse dopo la lettura dei documenti relativi a tutto il procedimento amministrativo che ha portato al rilascio degli atti necessari all'apertura del supermercato. Noi abbiamo dei dubbi sui condoni ci sono condoni che sono stati chiesti e ottenuti a distanza di tanti anni e credo che gli stessi dubbi siano stati vagliati e siano stati presi in considerazione dall'avvocatura comunale dubbi che riguardano anche l'operazione commerciale perché abbiamo una società che improvvisamente ha deciso di ingrandirsi e che poi ha ottenuto dei fondi dall'attuale proprietario della Lidl questo è emerso in consiglio comunale emerso dalle carte parliamo di circa 300 mila euro che sono stati versati dalla Lidl in nome per conto della vecchia società di chi era proprietario dell'area. L'obiettivo del consigliere Coriolano e dei suoi colleghi Giuseppe Basile e Mariangela Carone è quello di riportare l'area del fossato la sua naturale destinazione di parco urbano ma anche quello di evitare qualsiasi perequazione. Per questo motivo i pentastellati si mostrano scettici anche sul possibile spostamento della struttura in zona Barberini. ipotesi questa al centro di una trattativa tra amministrazione comunale Lidl in attesa del cui esito il cantiere in zona Castello non è ripartito anche dopo la scadenza dei sette giorni di stop concordati tra il sindaco Cosimo Cannito e i rappresentanti dell'azienda tedesca. Noi siamo molto scettici siamo molto scettici e lo stesso punto abbiamo fiducia nella magistratura rispetto nei confronti di chi dovrebbe essere indagato o potrebbe essere indagato perché speriamo che venga a galla la verità e che non ci sia una accocciutaggine io la chiamerei così da parte di chi ha permesso che tutto arrivasse a questo. Slitta intanto il parere sulla vicenda dell'avvocatura comunale atteso per questa mattina arriverà non prima di stasera o mercoledì.